Domenica 9 agosto, buongiorno, sono le 7 del mattino, è il momento consueto della lettura dei giornali, la rassegna stampa con i titoli principali, le notizie principali. Allora, sono molte le notizie, gli argomenti trattati e ci sono anche molte interviste, quindi degli approfondimenti importanti. Si parte dal virus, dai nuovi dati del contagio in Italia che sono in calo rispetto al giorno precedente, più di 300 rispetto ai 500 del giorno prima, però sono in aumento anche i decessi e vedremo che cosa dicono in proposito gli esperti. E poi all'estero, a Beirut, ieri ci sono stati dei violenti scontri, una manifestazione che era stata preannunciata, c'è stata la morte di un poliziotto e anche oltre 700 feriti nei violenti scontri, lo sapete, sono quelli successivi, scatenati, se vogliamo dire così, dalle esplosioni che ci sono state nel porto della capitale libanese. Si chiedono le dimissioni del governo, il Premier ha annunciato la probabilità, la possibilità di elezioni anticipate. E poi si parla anche di aborto, perché ieri il Ministro della Salute e Speranza hanno annunciato le modifiche proprio alla pratica dell'aborto e ci sono posizioni divergenti naturalmente tra la maggioranza di governo e le opposizioni e naturalmente il mondo cattolico. Poi si parla anche di CSM e di molto altro ancora, di economia, c'è un'intervista al Ministro Gualtieri su Repubblica che andremo a leggere con molto interesse. Allora, vediamo subito la prima pagina del Corriere della Sera, il titolo è sul coronavirus, virus allarme giovani, Emilia Romagna, nuovi focolai causati da ragazzi tornati dalle vacanze, l'esperto ma i sintomi lievi. E poi sotto, contagi decuplicati tra gli under 19, l'età mediana scesa da 68 a 39 anni. Vi segnalo, e qui c'è il richiamo di un colloquio, una sorta di intervista, ma se vogliamo dire così più informale, con il Ministro della Salute e Speranza che dice con il lockdown abbiamo salvato il paese. Il titolo naturalmente fa riferimento ai così verbali, diciamo, dei secretati, a quei rapporti dei secretati del Comitato Tecnico Scientifico nei giorni in cui appunto è divampata proprio la pandemia e che ha portato poi alle decisioni del Governo di chiudere appunto il paese. Vedete, chiudere tutto ha salvato l'Italia, dice al Corriere il Ministro della Salute e Speranza, siamo pronti a un autunno di resistenza. Le scuole, conferma, devono riaprire il 14 di settembre. Vi segnalo di spalla l'editoriale di Ferreruccio De Bortoli, vi leggo soltanto l'inizio, la formula di rito salvointese tecniche lascia aperta una prateria di interpretazioni del decreto di agosto. Questo è l'argomento. La fotonotizia purtroppo è stato confermato, il corpo ritrovato vicino Messina è quello della DJ scomparsa, ha trovata morta la DJ Viviana, si cerca però il figlio che era insieme a lei. E andiamo a vedere Repubblica come apre. Così taglieremo le tasse, come vi dicevo, ospita un'intervista al Ministro Gualtieri, vediamo che cosa dice nel richiamo qui nel sommario sotto il Ministro dell'Economia. Lavoriamo alla riduzione IRIPEF nel 2021, all'assegno unico per i figli. Nel decreto agosto non solo agevolazioni, ma un piano per salvare il paese a evitare l'autunno caldo. E poi, a proposito del virus, i furbetti di Montecitorio con mille euro di bonus per le partite IVA. La fotonotizia si riferisce agli scontri di Beirut. Guardate, il giorno della rivolta, questa è il reportage di Vincenzo Nigro dalla capitale libanese. Migliaia in piazza contro il governo dei clan, assaltati anche tre ministeri. La foto che vediamo è la conferma appunto della donna scomparsa, il suo corpo, Viviana è morta, resta il mistero sul bambino. E poi vi segnalo l'editoriale, oggi è domenica di Eugenio Scalfari, il premier, solo in cerca di un finale. Sembrerà strano che io cominci questo mio articolo domenicale con una citazione dantesca, un sonetto a me e a me fa sempre molto piacere trovare una ragione per ricordarlo ai lettori. Guido, vorrei che tu, Lapo ed io fossimo presi per incantamento. Questo è l'inizio dell'editoriale di Eugenio Scalfari. Poi c'è un editoriale, anche un commento sulle vicende libanesi del direttore della Repubblica, Maurizio Molinari. Se il Libano ritrova il suo popolo, la giornata della rabbia con la quale migliaia di libanesi hanno dimostrato contro i propri leader politici, descrive il sentimento prevalente sulla devastante esplosione del 14 agosto nel porto di Beirut. Così scrive appunto Maurizio Molinari. La Juventus ha vicendamento sulla panchina, se ne va a Sarri arriva a Pirlo. E c'è anche un'intervista, poi la vedremo però su un altro giornale, a Fabio Capello che dice la sua naturalmente. La stampa sgravia al mezzogiorno, ora via agli investimenti. C'è un'intervista alla Ministra Bellanova che spiega il decreto Gualtieri aiuti al Sud per dieci anni. Il Governo è pronto a chiedere i primi finanziamenti all'Unione Europea, 28 miliardi del Sud, timori grillini per il MES e non attivare fondi senza il voto in Parlamento. E poi vi dicevo anche che si parla di CSM sui giornali di giustizia, c'è un'intervista al Ministro Bonafede ma anche una a Ermini, vicepresidente del CSM. E la stampa invece ospita un'intervista a Di Matteo. Di Matteo che dice a Bonafede appunto al guardasigilli fai solo demagogia, le correnti resteranno. Beirut, guerriglia in piazza, morte centinaia di feriti. Questa è il reportage di Giordano Stabile dal Libano. E poi l'editoriale del direttore della stampa Massimo Giannini, lo andiamo a leggere, la doppia questione settentrionale come un fiume carsico in Italia riaffiora la questione settentrionale. Il nord del paese è martoriato dalla pandemia e devastato dall'economia, si sente tradito, offeso e deluso. Così Giannini. Abbiamo però esaurito il tempo a disposizione, diamo subito la linea alla regia, ci vediamo tra qualche istante e riprendiamo con la lettura dei giornali. A tra poco. 7,9 minuti e 45 secondi per essere puntuali e precisi. Allora, intanto ho preso la prima pagina del messaggero. Andiamo a leggere subito il titolo d'apertura. Alzano, dati falsati sui contagi, la doppia versione di Conte. La Lombardia comunicò 200 positivi in meno e non ci fu la chiusura. Premier, intrincema, maggioranza divisa. Italia Viva ora commissione d'inchiesta. La fotonotizia, un esodo d'agosto solo a metà. Le città non chiudono per ferie. Vi segnalo, oggi è domenica, c'è anche il commento di Romano Prodi. Ci ricorda un compleanno, è quello della Cassa per il Mezzogiorno. Vedete, domani si compiono i 70 anni dalla creazione della Cassa per il Mezzogiorno. L'impegno di ricordare questo avvenimento non nasce dalla semplice nostalgia per le speranze che il nostro Paese si poneva per unificare realmente il Paese nel lungo periodo della ricostruzione. Così il messaggero. Andiamo a vedere il sole 24 ore. Al via super bonus del 110%, cessione crediti e sconti in fattura. E poi la notizia del Covid con la fotonotizia, le incognite della corsa al vaccino. Proprio sul vaccino poi troveremo alcune interviste. E poi nel decreto legge di agosto, più sotto, dote da 700 milioni per crisi e contratti di sviluppo. Il fatto quotidiano. 12 bonifici sospetti dalle casse della Lega, un milione su 49, un'altra segnalazione di Banca Italia. La caccia al tesoro, strani versamenti all'imprenditore detto The King, ci guadagna il commercialista salviniano di ruba. Questa è l'apertura del fatto quotidiano. Vediamo il giornale invece. Conte agli sgoccioli fra virus e crisi. Svelate ritardi e bugie sulle zone rosse. Il Sud chiede i danni per il lockdown. Il PD torna a pensare a Draghi. A un anno dal papete il premier è in crisi. E poi il commento di Alessandro Sallussi, del direttore, lo vedete qui di spalla. Un anno fa di questi giorni si consumava lo strappo del governo tra Matteo Salvini e gli alleati grillini. Per un attimo il leader della Lega pensò di poter svoltare andando a votare forte del 30 e passa per cento che i sondaggi gli accreditavano. Ma l'attimo durò per l'appunto un attimo. Fu da subito chiaro anche lui che nessuno, ma proprio nessuno, aveva intenzione di consegnargli le chiavi del Paese, mettendo fine anticipatamente alla legislatura. Così il giornale. Libero, come apre? Lo scienziato Remuzzi ci tranquillizza. C'è un'intervista a pagina 2. Speriamo di avere il tempo di leggere, almeno per l'inizio. Il Covid è sotto controllo. In Italia adesso va bene. Governo e studiosi erano impreparati alla pandemia. Attenti a non importare ancora una volta il virus. L'aumento dei contagiati non deve allarmare. Chi è positivo oggi spesso non si ammala, ma sotto i 60 anni è raro morire. I bimbi non possono essere un tori. La fotonotizia, ormai l'ex CT della Juventus Sarri, licenziato, quindi scrive Feltri come una cameriera ad ore, al suo posto arriva Pirlo. E Vittorio Feltri però ci ricorda anche un grande giornalista che avrebbe compiuto 100 anni ed è Enzo Biaggi. Andiamo a vedere il manifesto come apre. Apre su Beirut. Lo vedete la fotonotizia. Guardate i detriti di scontri ancora tra polizie e manifestanti. La rivolta di Beirut nella capitale libanese a esplodere ora è la protesta contro il governo ritenuto il vero responsabile della strage di martedì. 158 finora le vittime accertate, vi ricordo. Assalto ai ministeri, edifici in fiamme, morto un agente, centinaia feriti. Il Premier Diab ha voto anticipato e ancora si cercano i dispersi. Il manifesto però intervista anche il Presidente della Svimez. No a licenziamenti, investire al Sud. Questo è la sintesi dell'intervista. La verità, la confessione del governo, errori sui migranti infetti, test sierologici inattendibili. E poi Maurizio Belpietro, Alberto Cirio, governatore del Piemonte, ha fatto i conti. Nell'ultima settimana oltre il 40% dei nuovi contagi è stato registrato fra i migranti ospitati nella Regione. Luca Zaia, governatore del Veneto, non so se abbia fatto i conti, ma visto ciò che è successo in una caserma che ha treviso ospita centinaia di profughi, è assai probabile che se tirasse le somme scoprirebbe percentuali anche più alte di quelle raggiunte in Piemonte. Così Maurizio Belpietro. Avvenire. Il titolo è sull'aborto, aborto in solitudine. Come vi dicevo, il Ministro della Salute e Speranza ha firmato, ha annunciato le modifiche. In tal senso alla legge, allora fino alla nona settimana sarà possibile ritirare la RU486 pure in un consultorio. Il dramma dell'interruzione di gravidanza avverrà a casa senza assistenza. La fotonotizia si riferisce agli scontri di Beirut. Vedete, Beirut si ribella, cortei e scontri. Chiudiamo la lettura delle prime pagine con la Gazzetta Sportiva. In primo piano, naturalmente lo riconoscete, c'è Pirlo e il nuovo commissario tecnico della Juventus. Ribaltone Juve guida Pirlo. Andiamo a vedere gli approfondimenti adesso molto rapidamente. Allora, partiamo dal virus perché il titolo che mette il Corriere della Sera a pagina 2 è più che eloquente. Il Covid cresce tra i più giovani da un positivo su 83 a 1 su 8. E sotto c'è un'intervista a Ippolito, che è il direttore dell'Istituto Spallanzani. Lo troveremo poi anche sulla stampa e lo andiamo a leggere tra un attimo. Però intanto da lui ci facciamo dire qual è la situazione. Gli hanno chiesto la situazione è di nuovo critica. Bisogna guardare oltre i numeri. Adesso in Italia sono ricoverati in terapia intensiva una quarantina di pazienti Covid-19. Tra marzo e aprile erano oltre 4.000. Quindi non c'è criticità. Gli indicatori da tenere sotto controllo sono essenzialmente due. L'indice di trasmissione RT, che deve restare sotto il livello 1, e il numero di casi per 100.000 abitanti nelle ultime due settimane. In Italia ora siamo a 6 ogni 100.000, che ci pone tra le nazioni più virtuose e fa il confronto con l'Europa in questa seconda parte della risposta. La metà della Francia, un quarto della Francia, un quindicesimo della Spagna, un quarantesimo degli Stati Uniti. Però ammonisce non significa che possiamo dormire sonni tranquilli, però non facciamoci la testa di paure eccessive. E poi la riapertura delle scuole. Questo è un punto di arrivo, anzi di partenza, quello del 14 settembre, al quale tutti quanti guardano. Dice prevedibile aspettarsi qualche focolaio e risponde così Ippolito, dobbiamo aspettarcelo così come attendevamo un incremento di casi collegato alla riapertura delle frontiere interne e internazionali. Però vi dicevo Ippolito è intervistato anche dalla stampa, pagina 8, qui però parla di vaccini. Allora vediamo cosa dice, perché è importante oltre alla situazione attuale sapere la prospettiva di che cosa ci aspetta. Allora innanzitutto dice che ruolo ha l'Italia nella corsa al vaccino. Tutto il mondo cerca il vaccino per il coronavirus. Allo Spalanzani ci lavoriamo da molti mesi. Prima ci siamo concentrati sulla parte virologica. Siamo stati tra i primi in Europa a isolare il virus. Abbiamo messo i nostri risultati a disposizione di oltre un centinaio di centri di ricerca. E poi ancora tutto sta procedendo bene, però vorrei raccomandare una cosa. Allora vediamo che cosa raccomanda. L'eccesso di ottimismo e i proclami trionfalistici sono dannosi. Non si gioca con il vaccino. Prima di sbilanciarsi servono riscontri. Cioè che il vaccino funzioni, crei anticorpi e che la protezione duri nel tempo. Per ora gli anticorpi permangono poco. La situazione non è così semplice da gestire. E poi ancora cosa si riferisce? È molto probabile che i vaccini non saranno pronti prima della prossima primavera. In attesa di avere a disposizione vaccini sicuri e efficaci servono terapia e farmaci efficaci. Queste le raccomandazioni di un tecnico, di uno scienziato. Intanto mi sono spostato sul Corriere della Sera, pagina 5, perché c'è un colloquio, chiamiamolo così, una sorta di intervista con il Ministro della Salute e Speranza. E allora lui dice, vedete, tutte le scuole devono riaprire il 14 settembre. I sacrifici che chiedo ai ragazzi hanno questo come obiettivo. E poi torno a parlare sulle polemiche di questi giorni, dopo che sono stati desecretati i rapporti del Comitato Tecnico Scientifico sull'opportunità o meno di chiudere, come a suo tempo venne fatto dal governo, tutta Italia anziché alcune regioni. E allora Speranza dice, chiudere tutto ha salvato l'Italia, pronti a un autunno di resistenza. Vediamo nel dettaglio che cosa dice. Dice 10 milioni di ragazzi tra ragazzi, insegnanti e genitori che torneranno a spostarsi, devono far paura. Stiamo parlando naturalmente della riapertura dell'anno scolastico. E Speranza risponde così, dice, no ma è un numero che ci costringe a essere ancora più prudenti su altri aspetti, per accumulare ancora un po' di vantaggio in vista della riapertura. Niente campionato di calcio, gli domandano, dice, sono un grande tifoso ma con tutto il rispetto tra accompagnare il mio figlio allo stadio e portarlo a scuola, preferisco la seconda. Deve fare la quinta elementare e voglio che la faccia in presenza, come tutti gli studenti. E poi ancora parla più avanti del fatto appunto di aver chiuso, aver disposto la chiusura di tutto il paese. Dice, sono assolutamente sereno. Su Alzano e Nembro la spiegazione è semplice e lineare e ricostruisce. Tra il 3 marzo e il decreto della presidenza del Consiglio del 10, che chiude tutta Italia, non c'è nessun buco. Il 4 marzo dice, ricevo il verbale del CTS, cioè del Comitato Tecnico Scientifico, che ricorda, mi arriva sempre il giorno dopo. Il 5 avviso conto e chiediamo un approfondimento a Brusaferro. Il 6 il Premier vede il CTS e lì matura il cambio di linea perché il tentativo di bloccare il virus in zone delimitate è superato dai numeri dell'epidemia in Emilia, Piemonte, Liguria e Marche. Il DPCM dell'8 marzo, che chiude solo le aree più colpite, è pienamente conforme alle idee del CTS. Poi scoppia il caos dei treni con la gente che lascia di notte la Lombardia e si rifugia al sud, gli ricordano. A quel punto con le regioni decidiamo di chiudere tutta Italia il 10 marzo perché non ha senso che sia spaccata in due. Dice, non si è pentito? Dice, penso che chiudere tutto sia stata una scelta giustissima che ha salvato il Paese dall'onda più alta e risparmiato tante vite. La strategia del lockdown un totale ci ha consentito di fermare il virus prima che invadesse il sud. I dati di Siero Prevalenza lo dimostrano, così il Ministro della Salute Speranza. E allora poi, sempre sul Corriere della Sera, c'è un'intervista che ha realizzato Fiorenza Sarzanini. L'ha fatta a ciciliano, quello che qui definisce l'uomo dei verbali. Stiamo parlando quindi dei CTS, ma è importante legarlo con quanto abbiamo visto. E allora, a volte dice, non siete stati ascoltati nei vostri pareri. Noi siamo tecnici, il decisore politico è il quadro completo e prende la strada che ritiene più opportuna. Perché il 7 marzo ritenevate giusto chiudere soltanto alcune regioni dell'ordine perché erano le più colpite. Ma poi c'è stata la fuga verso sud ed evidentemente il Governo ha ritenuto che sarebbe stato troppo rischioso. Così, ciciliano, lasciamo per un momento la parte del virus. Vi voglio segnalare l'intervista al Ministro Gualtieri, quindi parliamo in questo caso di economia su Repubblica. Non solo bonus, il nostro decreto punta sul lavoro e investimenti. Non ho tempo, purtroppo, per leggerlo insieme a voi. Però vi segnalo un'altra intervista sulla stampa e la Ministra Bellanova. Gli sconti per il sud da soli non bastano ora gli investimenti. Molto rapidamente c'è un'intervista anche a Brunetta sulla stampa a proposito di economia. Bonus a tutti in cerca di consenso. 7 e 21 minuti, io mi devo fermare qui. Adesso ci sono le previsioni del tempo con Paolo Sottogorona. A te Paolo. Sì, buongiorno. Nella prima parte della giornata di oggi, come è un po' normale, di piogge non ne sono previste molte, anzi ne sono previste molto poche. Qualcuna sempre in quella zona fra Sicilia e Calabria. Qualcosa proprio appena appena sull'Appennino centrale e al nord. Ma tenete conto che il calcolo è fatto fino alle 14, quindi aspettiamocene eventualmente queste deboli piogge verso l'ora di pranzo. Nel pomeriggio serata qualcosa in più si muove. Qualche piccola macchia che va verso il giallo, che sono, vi ricordo, associate a precipitazioni abbondanti, molto localizzate, insomma quindi una pioggia moderata, forte, un rovescio, forse un temporale, ma sono fenomeni isolatissimi, compaiono in Trentino, sull'Alta Lombardia, sull'Alto Piemonte e stranamente questa volta, diciamo, sulle coste fra Campania e Calabria e anzi anche sul pezzettino di costa tirrenica della Basilicata. Sono due piccole zone, però insomma qualcosa potrebbero portare. Ma soprattutto questo ci dà un po', come dire, c'è un piccolo campanello, una piccola lucetta rossa che si accende, perché domani vedete che su tutta la Campania, su tutta la Calabria, sulla Sicilia settentrionale, queste macchiette che indicano fenomeni localmente intensi sono decisamente più frequenti, quindi c'è un'instabilità che si riattiva. E questo avviene anche sulle Alpi centro-occidentali, in Liguria, sull'Appennino settentrionale, insomma qualcosa in più sicuramente c'è. Vediamo anche la giornata successiva in cui restano, vedete martedì, Basilicata e Calabria soprattutto, la fascia alpina anche un poco verso est, insomma c'è un pochino più di attività. Vediamo le temperature minime di questa mattina, sono salite un poco, stanno salendo un poco, ma molto lentamente, non ci sono diciamo impennate e chiudiamo col quadro dei mari che tendono a diventare tranquilli sui bacini più settentrionali, localmente mossi quelli centrali e poi c'è questa zona dello stretto di Sicilia in cui il mare potrebbe anche essere localmente molto mosso. La direzione del vento è sempre prevalentemente dai quadranti nord-occidentali. Se volete ci vediamo subito prima delle 7.55, adesso pubblicità e poi la prima edizione del nostro telegiornale. A più tardi.